LASER Ero presente quando a Berlino nella primavera del 1947 dentro l'edificio della Telefunken confiscato dagli americani venne trovato il verbale della conferenza di Wannsee. Era in mezzo ad un'enorme pila di carte. Ricordo molto bene l'orribile colore rosa della cartelletta con la scritta a mano soluzione finale della questione ebraica e ricordo anche che c'erano delle sottolineature in verde. Solo il ministro degli esteri nazista Joachim von Ribbentrop usava una matita verde e dunque mi allarmai. Chiamai subito al telefono il procuratore Robert Kempner a Norimberga e gli dissi che era stato trovato un documento importante. Mi chiese di prendere il primo volo possibile e di portargli il documento. Fu solo nel 1947 che poteva cominciare davvero la ricostruzione di quanto avvenne in una signorile villa berlinese il 20 gennaio 1942 e che è passato alla storia come conferenza di Wannsee. La testimonianza che abbiamo appena ascoltato è di Betty Richardson-Newt, traduttrice e assistente del procuratore Robert Kempner allora impegnato nella preparazione della seconda serie dei processi di Norimberga. Gli alleati avevano trovato già in precedenza la lettera d'invito per quella riunione segreta ma il rinvenimento del verbale fornì al mondo informazioni cruciali sui piani nazisti per la cosiddetta Endlösung der Judenfrage, la soluzione finale della questione ebraica. All'epoca del primo grande processo di Norimberga celebrato tra l'autunno del 1945 e l'autunno del 1946 contro i più importanti criminali nazisti quelle preziosi informazioni ancora non c'erano. In quei primi interrogatori che avevano scosso il mondo vi erano stati solo accenni a quella conferenza. Ora finalmente si potevano leggere in 15 pagine dattiloscritte non solo il motivo di quell'incontro ma anche la lista dei partecipanti e gli intenti dei gerarchi nazisti per il futuro di milioni di ebrei in tutta Europa. E soprattutto ora si sarebbe potuto usare quella prova nella nuova serie dei processi di Norimberga. In realtà gli imputati poi confrontati con quel documento durante il procedimento giudiziario affermarono con patti che il testo di quel verbale non corrispondeva davvero a quanto era stato detto. Per poter consegnare alla storia ulteriori particolari sulla conferenza di Vanzee si sarebbe dovuto attendere l'interrogatorio di uno dei partecipanti che verbalizzò anche la riunione. Adolf Eichmann, processato a Gerusalemme nel 1961 dopo il suo rocambolesco arresto in Sud America da parte dei servizi segreti del Mossad. Eichmann era riuscito a fuggire in Argentina nel 1950 e con il nome di Riccardo Clement si era rifatto una vita. Continuava però a frequentare i gerarchi nazisti giunti come lui in Sud America grazie a connivenze. Fra questi l'ex SS e giornalista Willem Sassen che nel 1957 registrò 73 nastri con interviste a Eichmann durante le quali il responsabile della logistica delle deportazioni si diceva stanco di vivere fra due mondi come un anonimo sommergibile e si autolodava per quella che definiva la propria capacità di escogitare soluzioni. Fra queste, la deportazione di 400.000 ebrei ungheresi nel 1944 un'azione che, disse Sassen, era stato un risultato mai raggiunto né prima né dopo. Eichmann aveva dichiarato spavaldo a Sassen I versi estratti da quelle interviste vennero pubblicati alla fine del 1960 dalle riviste Life e Stern. Nei mesi precedenti al processo in Israele altre riviste, fra l'altro francesi e polacche acquistarono i diritti. Quelle rivelazioni si incrociarono quindi con i lavori del procedimento contro Eichmann in Israele. All'inizio degli anni Sessanta era tuttavia troppo presto per una serie di esamina scientifica del migliaio di pagine dei vari manoscritti circolanti e si è dovuto attendere le ricerche di Bettina Stagnet concluse nel 2011 per avere piena cognizione dell'importanza di quel corposo incartamento. Il processo Gerusalemme si chiuse nel dicembre 1961 con la condanna a morte per impiccagione di Adolf Eichmann in quanto artefice di primo piano della Shoah. Come altri suoi colleghi prima di lui riferendosi alla conferenza di Wannsee durante gli interrogatori a Gerusalemme anche Eichmann affermò che il linguaggio usato nel corso della riunione per parlare della cosiddetta soluzione finale della questione ebraica era stato in realtà diverso da quanto messo a verbale. In dettaglio oggi non lo ricordo più ma so che quei signori hanno parlato in termini molto chiari non con le parole che ho dovuto usare poi nel verbale. La cosa è stata affrontata senza giri di parole si parlò di uccidere, eliminare, sterminare. Torniamo al 20 gennaio 1942 a Berlino. La villa divenuta tristemente famosa per la conferenza di Wannsee è ancora oggi immersa nel folto secolare verde sulle ribe del cosiddetto Grossa Wannsee. In realtà una vasta baia formata dal fiume Haffel. Siamo all'estrema periferia sud-ovest di Berlino. In quella zona a partire dal 1863 grandi industriali banchieri, professionisti agiati artisti e intellettuali si fecero costruire di moree lussuose. Fra questi il pittore Max Liebermann e poco distante anche l'industriale Ernst Marlier al numero 56-58 della via Amgrossenwannsee. dopo la Prima Guerra Mondiale Marlier aveva venduto la villa ad un altro industriale che nel novembre del 1940 rivendette l'edificio di 1500 metri quadri con parco annesso alla Nordafstiftung una fondazione contigua alle SS creata nel 1939 da Reinhard Heydrich comandante dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich passato poi alla storia come il Boia o il Macellaio di Prada è proprio quella villa ad ospitare dalle ore 12 del 20 gennaio 1942 15 alti funzionari nazisti provengono da ministeri polizia SS amministrazione dei territori occupati e dai ranghi del partito NSDAP il motivo è una riunione seguita da colazione come recitavano gli inviti diramati dallo stesso Heydrich che l'estate prima il 31 luglio 1941 dunque quasi sei mesi prima aveva ricevuto da Hermann Göring l'incarico di approntare un progetto globale sull'organizzazione e l'attuazione della soluzione finale e di predisporre i necessari preparativi quella riunione sulle rive del Wannsee era stata anticipata tuttavia anche da altre azioni di rilievo per l'annientamento della popolazione ebraica fra queste due riguardano ancora Heydrich il 24 gennaio 1939 dunque quasi due anni prima della conferenza di Wannsee Heydrich aveva già ricevuto ancora da Göring un ordine di mettere a punto una soluzione alla questione ebraica da concretizzarsi con l'emigrazione o l'evacuazione non si parlava dunque ancora di soluzione finale bensì solo di una questione ebraica tuttavia 17 mesi dopo quel primo incarico il 24 giugno 1940 ancora Heydrich aveva scritto al ministro degli esteri Joachim von Ribbentrop esprimendo l'opinione che la questione non potesse più essere risolta con l'emigrazione e suggeriva la necessità di una endlösung di una soluzione finale un input che non sarebbe rimasto inascoltato Heydrich era dunque una delle menti fondanti della soluzione finale un'ulteriore data importante il 12 dicembre 1941 Hitler convocò a Berlino i suoi gerarchi su quella riunione Josef Goebbels annoterà nel suo diario circa la questione ebraica il Führer è deciso a fare piazza pulita oltre Heydrich un altro fondamentale artefice era stato molto attivo negli anni precedenti alla conferenza di Vansee fornendo importanti impulsi Adolf Eichmann che già nell'agosto 1938 aveva aperto a Vienna l'ufficio centrale per l'emigrazione ebraica il momento non era casuale cinque mesi prima nel marzo 1938 l'Austria era stata annessa al Reich rievoca Gerhard Wilkram storico e curatore del BIM Museum immediatamente dopo l'annessione contro la popolazione ebraica si verificano azioni violente sul modello dei pogrom Le alte gerarchie naziste sono sorprese da quella furia brutale ma si rendono subito conto che questo offre una chance e che Vienna può diventare un laboratorio di sperimentazione Qui a Vienna la politica antisemita del nazionalsocialismo si radicalizza ancora di più Nei confronti degli ebrei in città si respira una sorta di atmosfera d'assalto alla diligenza e questo consente ad Eichmann di creare nell'agosto del 1938 l'ufficio centrale per l'immigrazione ebraica che diviene un modello poi esportato perché uffici analoghi vengono aperti per esempio a Berlino a Praga e dal 1941 anche ad Amsterdam e funzionano esattamente in base a questo modello viennese sulla base dell'esperienza fatta qui Heide Marie Uhl storica e co-curatrice per la Casa della Storia di Vienna di una recente mostra sulle deportazioni qui a Vienna Eichmann vide una possibilità di fare carriera creando un ufficio del tutto nuovo che in un primo tempo ebbe come scopo espropriare e costringere all'emigrazione il più rapidamente possibile gli ebrei austriaci circa 200.000 persone di cui la maggior parte a Vienna ricadevano sotto le leggi razziali di Norimberga e Eichmann con burocratica perfidia con una burocrazia del terrore ha raggiunto incredibilmente in fretta che la popolazione dapprima subisse diverse angherie con tasse e imposte vessatorie e poi vedesse a realizzati i propri beni e le proprie imprese venivano praticamente espropriati e attraverso la perdita di qualsiasi introito erano costretti a lasciare il paese al più presto possibile nel maggio del 1930 quindi nemmeno un anno dopo la sua creazione l'ufficio centrale per l'immigrazione ebraica comunicò con orgoglio che a partire dall'annessione 100.000 persone avevano lasciato il paese cioè la cosiddetta Ostmark l'organizzazione dell'immigrazione forzata degli ebrei viennesi a partire dall'agosto 1938 era diventata velocemente un ingranaggio assai efficiente lodato sia da Heydrich che da Göring nel corso di loro visite a Vienna anche le deportazioni di massa cominciarono molto presto nella capitale austriaca questa è la seconda particolarità viennese da qui già nella primavera del 1941 vennero eseguite cinque deportazioni organizzate esattamente con le modalità utilizzate in seguito a partire dall'ottobre 1941 per le deportazioni a livello dell'intero Reich quindi anche nella primavera di quel 1941 si può definire Vienna un laboratorio di sperimentazione per le deportazioni della popolazione ebraica nel piano globale delle deportazioni verso lo sterminio spiega ancora Heide Marie Uhl Adolf Eichmann non fu affatto una semplice pedina la sua immagine è fortemente influenzata da un lato dalla messa in scena di se stesso al processo di Israele e dall'altro dal libro di Anna Arendt Eichmann a Gerusalemme in cui viene presentato come burocrate e in cui si parla di banalità del male in realtà era più di un burocrate nel processo voleva presentarsi come piccola ruota del carro che non sapeva nulla e si limitava a eseguire ordini ma questo non corrisponde affatto al vero lui era davvero uno dei massimi artefici delle deportazioni era uno degli esperti di logistica e anche uno dei promotori delle deportazioni haupttäter der deportation er era uno dei logistiche e anche uno dei vorantreiber dei deportationi aus dem deutschen reich di logistica la conferenza di Vansey del 20 gennaio 1942 non fu l'inizio della soluzione finale fu tuttavia una svolta organizzativa per una nuova fase dell'attuazione del genocidio il progetto di una cosiddetta soluzione finale era germinato già prima della riunione Christoph Kreuzmüller storico alla Casa Museo di Vansey in questa riunione non si trattò di prendere una decisione la cosiddetta soluzione finale era già da tempo un dato di fatto fino a quel momento erano già stati uccisi più di un milione di ebrei però l'attuazione di quei massacri aveva evidenziato numerosi problemi dei quali Reinhard Heydrich in quanto coordinatore dello Serminio voleva parlare con gli importanti referenti del Reich fra l'altro dei ministeri e dell'amministrazione dei territori occupati ma perché Heydrich vuole interfacciarsi con altri esponenti dello Stato nazista Flavia Citrigno storica ed educatrice alla Casa Museo di Vansey una delle grandi domande per Heydrich prima appunto della conferenza era di assicurarsi che questi partecipanti dagli scelti questi rappresentanti di ministeri e di uffici importanti nello Stato nazista decidessero di seguire la sua autorità quello che non era affatto scontato un altro degli obiettivi principali era quello di presentare un resoconto della situazione quindi fare in un certo senso un punto di quello che era già stato fatto e di quali fossero gli obiettivi da raggiungere e quali fossero i processi da seguire in questo ambito l'altro punto molto importante che viene trattato nella conferenza di Vansey e a cui il protocollo dedica 7 delle sue 15 pagine è la definizione di chi fosse da considerare ebreo e questo appunto è stato un problema sul quale i partecipanti hanno apparentemente discusito a lungo all'ordine del giorno della conferenza di quel 20 gennaio 1942 vi è un unico punto la soluzione finale della questione ebraica alla riunione non partecipano esponenti del primo livello del regime a parte Alfred Maia che era Gaulaita quindi gerarchicamente appena al di sotto di Hitler e per questo nel verbale sta al primo posto non ci sono ministri bensì per così dire i manager che dovranno gestire la Shoah i manager della morte Christoph Kreuzmüller i partecipanti alla conferenza di Vanze costituivano una rappresentanza trasversale del regime nazionalsocialista a livello dirigenziale e ciò dimostra come questa moderna suddivisione dei compiti fosse parte dello sterminio degli ebrei i partecipanti erano lì in rappresentanza di molti altri artefici rappresentavano l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione uccideva l'età media dei 15 partecipanti è 42 anni il loro sfondo familiare è borghese o piccolo borghese 10 sono laureati 8 hanno un dottorato fra i convenuti l'atmosfera è rilassata ricorderà ancora Eichmann durante il processo a Gerusalemme tutto si svolse con grande tranquillità con molta cordialità molta cortesia non si parlò tanto non durò a lungo venne servito del cognac in quanto anfitrione all'inizio della conferenza Heydrich si produce in un'articolata relazione introduttiva in cui spiega cosa è stato raggiunto e cosa d'ora in poi lui ritiene vada fatto fino a quel momento le principali misure messe in atto contro gli ebrei sono state la crescente discriminazione e l'induzione all'emigrazione ma spiega Heydrich si è dovuto far ricorso ad esse in mancanza di altre soluzioni gli svantaggi di una tale forzata emigrazione erano chiari a tutti ma in mancanza di altre possibili soluzioni in un primo tempo dovettero essere accettati nonostante numerose difficoltà spiega Heydrich tra il 30 gennaio 1933 e il 31 ottobre 1941 circa 570.000 ebrei sono stati indotti ad emigrare laddove i costi connessi a quella gigantesca azione 9.500.000 dollari sono stati sostenuti dagli stessi ebrei a riprova di quanto afferma Heydrich presenta anche una tabella già preparata da Adolf Eichmann una sorta di censimento degli ebrei in territorio europeo rivocava ancora Eichmann a Gerusalemme le fonti per quanto mi ricordo erano state annuari giudaici ma soprattutto reso conti da varie parti richieste di informazioni via telex ai vari uffici per i quali mancavano dati poi ulteriori informazioni da uffici locali per farla breve avevo fatto uso di tutte le possibilità non so se proprio tutte ma insomma ho usato le possibilità di cui disponevo per ottenere i dati che servivano Nella tabella una colonna indica ciascun paese europeo da considerare per la cosiddetta azione di liberazione dagli ebrei e come unica nazione l'Estonia vi figura come già judenfrei libera da ebrei una seconda colonna indica il numero degli ebrei residenti in ciascun paese per la Francia l'elenco comprende il numero sia della parte occupata 165.000 sia dei territori ancora non occupati 700.000 e si indicano fra l'altro anche quelli dell'Inghilterra dell'Irlanda della Svizzera e del Portogallo Heydrich suggerisce l'opportunità di fare pressione sui governi dei vari paesi perché introducano misure restrittive nei confronti della popolazione ebraica e collaborino con il Reich il traguardo che si intende raggiungere è quello di sterminare gli 11 milioni di ebrei che nelle settimane precedenti la burocrazia nazista ha calcolato vivere in tutto il territorio europeo un punto focale del messaggio introduttivo di Reinhard Heydrich ai suoi colleghi è che quanto organizzato fino a quel 20 gennaio 1942 ha incontrato difficoltà e ha raggiunto per così dire i propri limiti al posto dell'emigrazione forzata i cui svantaggi Heydrich ha già sottolineato il nuovo intento deve diventare l'evacuazione degli ebrei verso l'Europa orientale cioè la deportazione di massa da ogni angolo del continente le azioni fin l'intraprese per indurre gli ebrei all'immigrazione si sono rivelate misure palliative ma aggiunge Heydrich queste azioni vanno considerate solo dei ripieghi tuttavia si stanno già raccogliendo esperienze pratiche di grande rilievo in vista della futura soluzione della questione ebraica le cosiddette esperienze pratiche di grande rilievo cui Heydrich fa riferimento sono già numerose sia nel campo delle deportazioni sia anche nelle uccisioni di massa fra l'altro con i gas di scarico di camion come strumento di morte dall'autunno 1941 si stava sperimentando il Cyclone Bay come gas letale e si era iniziata la costruzione di campi di sterminio in Polonia e fin dal 1939 il programma nazista di eutanasia uccideva sistematicamente col gas con iniezioni o con farmaci persone con handicap fisici o mentali l'Europa annuncia Heydrich riferendosi all'eliminazione degli ebrei verrà pettinata da ovest a est per liberarla da quelli che definisce pidocchi di euroncia 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 Grazie.